Ciao a tutti! Oggi prepareremo zucchine e melenzane marinate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più un'ora per la marinatura. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a fette, melenzane tagliate a fette, acqua, aglio, prezzemolo, basilico, menta, origano, sale, pepe, olio e aceto di mele. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Chiudiamo con il coperchio e posizioniamo il varoma. Noi abbiamo già condito le melenzane e le zucchine con sale e pepe. Lo facciamo cuocere per 20 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Le verdure sono cotte. trasferiamoli in un piatto da portata e posizioniamo sopra le foglioline di menta. E andiamo a svuotare il boccale. Dopo aver svuotato il boccale mettiamo nel boccale l'aglio, l'origano, il prezzemolo e il basilico. E li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Prendiamo sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungiamo l'olio, l'aceto, il pepe, il sale. Ed azioniamo i bimbi per 5 minuti. 90 gradi. Velocità 1. Riprendiamo le verdure. Versiamo la salsa sulle verdure. coprire con pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno un'ora per marinare. Zucchine e melanzane marinate. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!